Buongiorno e buona domenica 16 giugno, ben trovati al nostro primo appuntamento con l'informazione regionale. Apriamo con la notizia di due tragici incidenti costati la vita ad altrettanti giovanissimi centauri. Nel pomeriggio di ieri a Fermignano ha perso la vita Emiliano Pimpanini, 21 anni. Il giovane era in sella alla sua moto e si trovava in corsia di sorpasso quando si è schiantato contro un'auto che stava svoltando. Il ragazzo è stato trasportato in aliambulanza all'ospedale regionale di Torrette, dove purtroppo è morto poco dopo per le gravi ferite riportate nell'incidente. Viveva con la sua famiglia a Canavaccio di Urbino. E si chiamava Davide Paolini, il ragazzo di appena 24 anni morto a seguito di un incidente avvenuto sull'Arceviese nella frazione di Santa Croce di Arcevia. Erano le 18.30 circa di ieri quando il ragazzo ha perso il controllo della sua moto ed è finito contro il Gat Rail. Poi fuori strada, un impatto violentissimo che non gli ha lasciato scampo. A dare l'allarme alcuni automobilisti di passaggio. Sotto shock l'intera comunità di Arcevia e Sassoferrato, dove il padre del giovane, il brigadiere Lorenzo Paolini, è in servizio presso i carabinieri forestali. E scene di panico ieri sera alle 23 circa in pieno centro sul lungomare a Porto San Giorgio per una rissa scoppiata tra un gruppo di giovani di origini nordafricane. All'improvviso tra la folla dopo la partita degli europei è partito un colpo di arma da fuoco. Sul posto, tra i fuggifuggi dei presenti, sono intervenuti carabinieri, polizia, vigili urbani e un'ambulanza. L'arma era una scaccia a cani. Nel marasma generale, uno dei ragazzi è stato colpito alla testa col calcio della pistola proprio dal giovane che aveva sparato ed è stato soccorso, mentre gli altri protagonisti della vicenda sono scappati verso la spiaggia facendo perdere le loro tracce. Sul posto anche il sindaco Valerio Vesprini e alcuni assessori. La rissa sarebbe scoppiata per motivi legati alla droga. Parliamo adesso di lavoro stagionale, ma non solo. Retribuzioni, salari e mestieri introvabili. La fotografia nel servizio di Lino Balestra. Nella classifica dei lavori stagionali, quella degli addetti nel settore bar e ristorazione rimane in testa, con oltre 5.700 richieste. Segue poi l'addetto alle pulizie, 1.220, poi le vendite, 1.150. Sono oltre 17.000 le utenze richieste per il lavoro estivo nelle Marche in questo 2024, con un primato che resta saldamente nelle mani del settore dedicato ai servizi. Una richiesta che ogni anno si affaccia in questo periodo. Molti sono i posti che si confermano anno per anno, ma molte sono le posizioni richieste. Movimentazione merci, operai specializzati, meccanici e manutentori, ma anche personale addetto all'accoglienza, autisti e servizi di sorveglianza e vigilanza. In leggera flessione le richieste degli operatori dedicati alla cura della persona, meno 1,6%. Con la riapertura di molte attività o l'aumento delle presenze, la fame di personale addetto cresce. A volte spesso però la domanda e l'offerta stentano ad incontrarsi e da qui spesso nascono le incongruenze di chi dice che non trova lavoro e chi invece denuncia una carenza di candidati, pensate meno 31%, tra maggio e giugno. Anzi, alle volte c'è proprio assenza totale. Le figure più difficili da reperire sono quelle ovviamente ad alto tasso di specializzazione, con i contratti a disposizione che sono sempre a tempo determinato, l'82% del totale. Union Camere fa sapere che tra maggio e giugno c'è stato un incremento di richieste del più 34%. La fotografia delle zone da dove provengono le maggiori richieste è molto etereogenea. Ancona, Fermo e Pesero Urbino mostrano una leggera flessione di richieste che oscilla tra il meno 2,7% e il meno 3,3%, mentre stabili le richieste nella provincia di Macerata. 2.860 richieste. In forte ascesa Ascoli Piceno, con oltre 3.000 richieste e un più 7,5% di incremento. Sulle fasce di età rimane salda la posizione degli under 30, che occupano il 35,5% delle richieste, ai quali solo il 7% è richiesta la laurea, mentre per il 29% è richiesto il diploma e nel 40% basta anche solo una qualifica professionale. Torniamo alla cronaca. Ancora abusi e violenze in famiglia, vittime le donne. Quattro uomini sono stati denunciati per uno di loro anche la misura cautelare di divieto di avvicinamento. È il preoccupante bilancio dei carabinieri di Fermo che sono intervenuti a Monte Granaro, Pedaso e Porto Sant'Elpidio. A Monte Granaro i militari hanno denunciato un quarantenne romeno che picchiava la moglie in presenza dei figli minori. A Pedaso i carabinieri della locale stazione hanno denunciato un 41enne del Fermano. Una misura cautelare di divieto di avvicinamento a luoghi frequentati dalla parte offesa è stata messa dal GIP del Tribunale di Fermo per il reato di maltrattamenti in famiglia per un 55enne che da mesi usava violenza contro la moglie. A Porto Sant'Elpidio, sempre a Monte Granaro, un italiano di 41 anni che non accettava la separazione dalla moglie, è stato denunciato per minacce e stalking. Ed ora la politica fresco di elezioni al Parlamento europeo. Carlo Ciccioli, consigliere regionale di Fratelli d'Italia, parla di priorità delle Marche da portare in Europa. Lo ha incontrato per noi Manuela Cermignani. Dopo 20 anni a rappresentare la circoscrizione Italia Centrale ci sono due europarlamentari marchigiani. Le Marche, la regione che ha una popolazione di un milione e mezzo di abitanti, ha registrato un'affluenza di voto pari a una percentuale totale del 54,56%. E ora, dopo le elezioni dell'8 e del 9 giugno, è tempo di analisi e di conoscere da vicino le linee di programma che verranno portate a Bruxelles. Con il neoeletto Carlo Ciccioli, il consigliere regionale nonché ex segretario regionale di Fratelli d'Italia, che ha ottenuto 76.000 preferenze. Io voglio sperare che l'elezione da parte del centrodestra europeo di tanti parlamentari porti anche a un cambio di maggioranza, o comunque un cambiamento nella leadership e quindi la possibilità di nuove politiche. Quali sono le nuove politiche? Innanzitutto il credito. Per anni è stata l'Europa dell'austerity, l'Europa dei tassi alti di costo del denaro. Ma il costo del denaro alto implica difficoltà per la piccola e media impresa, che ha bisogno di finanziamenti. Quindi lo sviluppo, l'occupazione e la ricerca tecnologica necessita di un costo del denaro basso per sviluppare virtuosamente l'attività. L'altra parte è una visione nuova della politica agricola e comunitaria. Cioè in questi anni si è arrivata la rivolta dell'agricoltura, la rivolta dei trattori, perché sono state politiche agricole inique. Addirittura si paga il non lavoro, cioè metti un parte del terreno, non lo coltivi e allora ti danni i soldi, il contributo. E' una politica tutta favorevole alla grande distribuzione, che compra fuori comunità europea, prodotti agricoli che vengono dall'Algeria, dal Marocco, e penalizza i produttori italiani, ma non solo italiani, europei. Questo deve cambiare, l'hanno capito anche gli agricoltori tedeschi che per la prima volta sono insorti. Cosa ha portato questo voto? Alla crisi dei governi che sostenevano le politiche europee. Quindi è l'aria quella del cambiamento. I tempi della transizione sono sempre tempi molto difficili, incerti, su questo non lo so, ma mi permetto di una nota sui giornalisti molto importante. La svolta sarà il 5 novembre, quando si eleggeranno Presidente degli Stati Uniti, e allora è una revisione di tutte le politiche occidentali. L'Agenzia Internazionale di Rating Fitch ha confermato il rating di lungo termine dalla regione Marchia BBB con prospettive stabili. La regione, quindi, se considerata al di fuori del contesto nazionale, risulta avere un giudizio superiore rispetto al rating dello Stato italiano. Tra gli elementi qualificanti della regione, considerati dall'Agenzia, ci sono in particolare la sostenibilità del debito, la solidità della performance finanziaria e il moderato livello di rischio. Lo fa sapere una nota della regione Marchia. Nella notte tra il 14 e il 15 giugno, alcuni cittadini hanno rinvenuto sulla spiaggia di Cupera Marittima un esemplare di tartaruga marina appartenente alla specie Caretta Caretta, intenta a deporre uova. I cittadini, increduli, hanno avuto la fortuna di assistere alla deposizione delle uova e alla copertura del nido da parte della tartaruga che poi ha ripreso il mare. La guardia costiera di San Benedetto del Tronto, nella mattinata di ieri, ha accertato la presenza del nido provveduto alla sua sperimetrazione di sicurezza. La nidificazione di tartarughe marine sul litorale Piceno è un evento molto raro. Il comandante della guardia costiera San Benedettese ringrazia i cittadini che con la loro segnalazione hanno permesso di individuare e tutelare il sito, nidificazione e ricorda che è necessario che tutti collaborino alla tutela del sito. E' in corso alla badia di Fiastra, luogo splendido, l'edizione 0 di Unicam, la scienza in festa due giorni ieri e oggi di laboratori, conferenze, passeggiate, seminari e incontri con scienziati. Ieri pomeriggio il via con tantissima gente, sentiamo il magnifico Rettore di Unicam ai nostri microfoni. Rettore si apre questo festival della scienza, questi due giorni pieni di iniziative, di eventi e di gente, con tanti giovani. Sì, bellissimo perché non c'è niente di più bello che festeggiare la scienza, che sembra sempre una cosa troppo lontana, così seria, ma che invece può diventare anche molto divertente, accattivante e attraente. L'idea è quella di portare alla conoscenza di tutti, a tanti livelli, quello che si sviluppa all'interno dei laboratori scientifici di tutto il mondo, in particolare quelli ovviamente dell'Università di Camerino. La scienza è fondamentale, fondamentale per il nostro futuro, tutte le persone la devono conoscere, devono conoscere quello che significa un'innovazione, quello che significa una nuova tecnologia, perché è così che cresce anche la democrazia. Oggi da segnalare, tra le altre cose, alle 16.30 la passeggiata nei luoghi storici dell'Abbadia, alle 16.45 la Casa della Memoria, un'esperienza con i visori 3D, e alle 18.00 l'incontro con Luca Perri, astrofisico e divulgatore scientifico. Ed ora ci occupiamo di sport. Apriamo con una notizia di calcio mercato, la Samba ufficializza il suo primo acquisto, si tratta del difensore centrale Mattia Gennari, nella passata stagione in Serie D, con il Nardò, 33 anni a dicembre, vanta un curriculum di tutto rispetto, con quasi 300 presenze e 21 reti tra i professionisti. Ultimo atto di un lunghissimo campionato, oggi alle 16.00 il Castelfidardo si gioca all'accesso per la Serie D contro il Prato, il servizio di Andrea Verdolini. Sarà l'ultimo atto di una lunghissima stagione agonistica iniziata ad agosto. Oggi pomeriggio alle 16.00 il Castelfidardo si gioca all'accesso alla Serie D, ricevendo al Mancini lo Zenit Prato nella più classica delle finalissime, da dentro fuori, senza domani. Si riparte dal 2-1 dell'andata in favore dei Toscani, nelle immagini, ma i ragazzi di mister Marco Giulio Dori, grazie al gol di Evangelisti nel finale, possono ancora sperare di ribaltare l'esito della contesa. I biancoverdi hanno dimostrato, più di una volta durante l'anno, di saper venire fuori anche da situazioni complicate, e in partite come queste servirà tutto per riuscire ad avere la meglio di una squadra comunque solida ed organizzata. I padroni di casa dovranno però fare a meno dei due perni difensivi, imbriole e rotondo, causa squalifica, ma il valore aggiunto di questa compagine è sempre stato il gruppo. Questo, unito alla necessità di ridurre al minimo il numero degli errori, dovrà fare la differenza. Oltre al fattore campo, ovviamente, nell'impianto Fidardense, sarà tutto esaurito, come nelle migliori occasioni. Ritorno alle Olimpiadi, questo è il titolo dell'incontro con cui il presidente del Comitato regionale del CONI, Fabio Luna, e il suo omologo della Federazione Vera, Simon Conti, hanno voluto salutare l'atleta pesarese della Formula Kite, Riccardo Pianosi, che ha ottenuto la qualificazione ai giochi olimpici di Parigi 2024. Accanto alle autorità c'erano anche Filippo Baldassarri e Michele Regolo, atleti marchigiani, azzurri, unici, tre velisti che nella regione hanno avuto l'onore di partecipare ad un'Olimpiade e che simbolicamente hanno ufficializzato una sorta di passaggio del testimone. Le interviste. Sicuramente è stata una qualifica lunga, è finita qualche mese fa, l'ho vissuta nella maniera, credo, più giusta, e ora sto facendo il percorso, secondo me, migliore per arrivare preparato a queste Olimpiadi, che saranno dal 4 all'8 agosto. Credo di poter dire di essere in una buona forma fisica e di essere pronto per portare a casa un buon risultato, se tutto va come dovrebbe andare. Abbiamo voluto incontrare questa mattina, insieme con la Federazione regionale della Vela, Riccardo Pianosi, ma prima di tutto per quello che ho voluto anche dire nel mio intervento, per ringraziarlo per tutto quello che ci ha regalato in questi ultimi anni, veramente da titoli europei, vicecampione del mondo e tante, tante soddisfazioni regalate allo sport marchigiano. E poi, quello che ci ha regalato qualche giorno fa è la sua qualifica per le Olimpiadi, le prossime Olimpiadi di Parigi, e pertanto non potevamo non ne incontrarlo per fare veramente a lui un grandissimo in bocca al lupo, perché andrà a far parte di quel gruppo di atleti martigiani che andranno ai giochi olimpici di Parigi a rappresentare la nostra regione. Bene, io mi fermo qui, vi do appuntamento a questa sera per l'edizione delle 18.50. Vi auguro un buon pomeriggio e vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie. Asset, quando il cittadino è al centro. Un saluto e ben ritrovati con le previsioni di Trebi Meteo. Nella giornata di domenica l'alta pressione tenderà a irrobustirsi sul nostro paese, anche se con un flusso di correnti occidentali che ancora interessa in parte al nord Italia provocando qualche disturbo sull'arco alpino, ma anche correnti leggermente umide interesseranno la Sardegna provocando un incremento della variabilità durante il giorno. Più nel dettaglio, osservando lo zoom delle precipitazioni, notiamo come il clima di fatto sarà asciutto su tutto il territorio, salvo qualche piovasco sull'arco alpino e come dicevo anche sull'isola, sulla Sardegna, non mancheranno isolati piovaschi nelle ore centrali della giornata. Più nel dettaglio quindi della previsione, avremo una giornata di domenica all'insegna del sole praticamente ovunque, seppur con della nuvolosità che insisterà al mattino al nord ovest, anche in pianura, in dissolvimento poi con l'andare del giorno. Durante il pomeriggio non mancheranno isolati disturbi sull'arco alpino, con qualche piovasco, anche sulla Sardegna. A fine giornata non escluso qualche fenomeno anche sulla Sicilia nord-occidentale, ma per il resto il contesto sarà stabile, asciutto e soleggiato, con temperature massime in aumento e caldo in intensificazione soprattutto al sud. Ma per maggiori dettagli seguiteci sull'app di Trapi Media.